Tra Vaione a Paoli Lattino è il nomignolo del comandante dei Barraceli Giuseppe Caddeo. La scritta a spray è apparsa nel pozzo comunale di Marzas, accompagnata da una croce e quindi un chiaro segnale intimidatorio. Il pozzo viene usato dagli allevatori per l'approvvigionamento di acqua per le aziende. E chissà che gli autori non arrivino proprio dall'ambiente delle campagne dove il corpo di polizia rurale sta operando da anni, permettendo una significativa riduzione dei furti. Condanna da parte del sindaco e dall'amministrazione comunale per quello che viene definito un gesto vigliacco.